Musica Allora, dopo gara tra Anzio Lavinio e Cisco Roma, una goleata da parte dell'Anzio Lavinio, forse è una partita che fa poco testo anche in virtù del valore di un avversario non proprio all'altezza, però voi avevate voglia di riscatto, mezzo passo falso della settimana scorsa c'era tanta voglia di tornare a vincere. Sì, il passo falso in casa del TCP è pesato parecchio anche moralmente, però oggi abbiamo dato una dimostrazione che durante la settimana abbiamo lavorato e abbiamo recuperato questa partita, anche fa morale per il recupero che faremo mercoledì contro il Flaminia 7, quindi ci siamo preparati al meglio per questa partita e anche per il recupero infrasettimanale. Ecco, che emozione si vive dopo il primo gol stagionale? È un'emozione bellissima, non avevo mai fatto un gol in una competizione, quindi questo è stato il primo, è una sensazione bellissima. Anche l'abbraccio delle compagnie è stata veramente una bella emozione. Beh, non te l'aspettavi, forse che tutte sarebbero entrate in campo. Esatto, infatti quella sarà una sorpresa bellissima, veramente una cosa bellissima, sì. Sicuramente ne sa qualcosa di più in fatto di gol la sua compagna di squadra, tu ne segni qualcuno in più, forse sorridi anche quando senti queste dichiarazioni? Sinceramente sono più felice per il gol suo e niente, sì, vorrei segnare più, però è importante prendere e acquistare i tre punti e andare avanti per l'obiettivo che abbiamo. Che cos'è che però va sottolineato? Quando c'è una prova, non quella di questa sera, quella della settimana scorsa, non è un po' sul, diciamo, questo mezzo passo falso, un po' vi ha un po' rallentato la corsa, però non avete mai smesso di lottare, non lo farete perché il vostro intento è quello di andare avanti quanto più possibile e soprattutto agganciare quel primo posto in maniera solitaria. Diciamo che il risultato della scorsa settimana ci ha buttato molto giù, però stiamo qui, lavoriamo e vogliamo prenderci il nostro posto. Ecco, c'è poco tempo, subito deve essere archiviata questa gioia per questa vittoria, anche perché incombe tra qualche giorno proprio il recupero con l'Inflaminia 7. E' mercoledì, appunto, abbiamo questa importantissima partita e quello sarà un test molto duro. Le nostre avversarie sono molto preparate e ci stiamo preparando bene anche noi per mercoledì. Bene, chiudiamo invece con Martino, oggi la mettiamo un po' sotto torchio. E' importante farsi trovare pronte anche in queste partite e soprattutto dare il meglio di se stesse per dimostrare che cosa, qualcosa di più al ministero o qualcosa anche a se stesse? Beh, innanzitutto per il ministero comunque ci sta mettendo l'anima per questo progetto, lui il preparo dell'atletico, quello dei portieri, per tutto il gruppo è importantissimo queste vittorie, perché danno morale e è sempre un passo in più verso il primo posto. Quindi più vittorie facciamo e di più sale morale, insomma, per tutto il progetto, per tutta la società, per tutte.